Fa la porta, progressi comunque per gli uomini di Ammazza l'Orso che trovano il gol al 29esimo e il terzo centro stagionale per Andrea Carozza, tutti e tre i gol su calcio di punizione ormai diventato un grande specialista Carozza, guardate il destro come si abbassa con Santoni che tocca il pallone ma non riesce ad evitare il gol dell'1-0